Bene, cambiamo decisamente argomento, parliamo di cultura, tra qualche minuto saremo in collegamento con il sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo, in collegamento Skype avremo la possibilità di parlare con lui, sappiamo che la comunità di Aliano sta affrontando un percorso culturale importante che è stato in un primo step quello della Capitale Italiana della Cultura 2024, purtroppo si è interrotto ma continua il progetto in maniera forte e decisa anche con il sostegno del governatore Lucano Vito Bardi, tra l'altro Aliano mentre ha interrotto il percorso verso la Capitale Italiana della Cultura 2024 va avanti invece sullo step della Capitale Italiana del Libro 2022, infatti è entrato nella short list di quest'altro obiettivo che vuole raggiungere e adesso facciamo il punto su tutto ciò con proprio lui Luigi De Lorenzo, che intanto saluto e ringrazio dovrebbe essere già in linea con noi, tra qualche istante lo sarà, chiedo conferma alla regia. Buongiorno Luigi De Lorenzo. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori di TRM Network. È un piacere di sentirla, si va avanti in maniera forte con il progetto culturale nella sua comunità anche con il sostegno della regione Basilicata. Sempre, noi siamo sempre sul pezzo, stiamo lavorando ancora al dossier, lavoreremo da qui ai prossimi anni sicuramente con delle cose importanti che succederanno nella nostra comunità. Ecco, infatti ho già anticipato che Aliano comunque è passata nella short list della Capitale Italiana del Libro 2022, il che depone bene sul percorso culturale che state facendo e poi ieri ha avuto anche il sostegno del governatore Lucano Vito Bardi, che ha proprio preteso il dossier che voi avete stilato per poter intervenire nei dettagli che voi volete mettere sul tappeto e mettere in campo. Sì, con il Presidente dell'Aggiunta regionale abbiamo discusso a lungo. Io invierò un estratto del dossier di Aliano Capitale Italiana della Cultura per il 2024, perché questo lavoro che abbiamo fatto sicuramente non sarà vano. Invierò anche un cronoprogramma delle iniziative che faremo a supporto del dossier. Naturalmente siamo orgogliosi di essere finalisti del dossier che abbiamo presentato nel mese di luglio, quale Capitale Italiana del Libro per il 2022. È stato un percorso lungo, è un po' in ritardo. Noi ci auguriamo, insieme alle altre città candidate, di fare anche noi la nostra bella figura, perché è un dossier completo, è un dossier che abbraccia un po' tutte le attività che abbiamo fatto negli anni e questa messa in rete della rete delle biblioteche comunali sicuramente potrà portare dei risultati importanti non solo per la nostra comunità ma per la montagna materana. Perché come dicevamo e abbiamo sempre detto che la Capitale Italiana, la città candidata Aliano, era una candidatura non solo di Aliano ma della montagna materana, del Metapontino, della Valdagri, ma di tutta la Basilicata, che noi vogliamo comunque portare insieme a noi in azioni di marketing territoriali in giro per l'Italia e per il mondo. Mentre sul percorso Capitale Italiana del Libro 2022, quale sarà il prossimo appuntamento che potremo seguire con voi, capire che cosa farete? Il 9 abbiamo questo incontro con il Ministero dove in 10 minuti spiegheremo il dossier e poi ci saranno 20 minuti a disposizione della giuria per fare le domande sia al Sindaco, l'Amministrazione e quelli che hanno curato insieme a me il dossier che vorrei ringraziare per il grande lavoro che è stato fatto per la nostra comunità e per la nostra regione. Mentre quando ci sarà, se ci sarà un nuovo incontro con Bardi per comprendere insomma come continuare quel percorso che non è comunque perso sulla Capitale Italiana della Cultura 2024? Noi intanto faremo un incontro con le aree interne della nostra regione perché adesso deve rappresentare anche un momento di marketing territoriale del nostro territorio, così come l'avevamo previsto all'interno del dossier. Intanto faremo un abstract con il comitato di coordinamento di Aliano 2024 che resterà tale e quindi presenteremo sia un abstract del dossier e sia un cronoprogramma delle iniziative che intendiamo fare da qui al 2024 perché nel 2024 Aliano comunque sarà Capitale Italiana della Cultura a prescindere da quello che è successo in giuria. Noi contavamo tanto di essere nei primi dieci però purtroppo alla fine noi sconteremo ancora per qualche anno Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019 e di questo ne eravamo certi perché già da qualche giorno girava questa voce da mercoledì che Aliano comunque era fuori dalla short list. Insomma in bocca al lupo per questo vostro percorso culturale che ha più sfaccettature. Grazie per essere stato con noi. Noi intanto porteremo avanti le azioni del dossier, la promozione di Aliano e del nostro territorio ripartendo proprio da Torino. L'8, il 9 e il 10 saremo a Torino dove alla Galleria di Arte Moderna sarà inaugurata una delle più grandi mostre di Carlo Levi e al circolo dei lettori di Torino che è il nostro partner di Capitale Italiana del Libro. Ci sarà una grande mostra su Carlo Levi promossa dall'amministrazione comunale di Aliano. Bene, grazie per essere stato con noi. Arrivederci Sindaco. Grazie. Grazie.